Ben ritrovati cari followers, ben ritrovati in questo video editoriale odierno. Allora, prima di tutto vi preannuncio che sono riuscito finalmente dopo tre giorni a parlare col calzolaio della Juventus, Fiorenzo, che è un mio editorialista di zona, in molti mi avete chiesto ma come l'ha presa Fiorenzo questa eliminazione della Juventus dalla Champions? Insomma, sono riuscito ad avere una breve intervista esclusiva con uno degli editorialisti da me più apprezzati che quindi vi offrirà tra poco il suo punto di vista. Quindi non perdete il malefico calzolaio della Juventus all'indomani, oddio all'indomani, ci ha messo tre giorni per riprendersi dell'eliminazione della Juventus dalla Champions per mano del Porto. A questo proposito, complimenti al Milan perché tutti, e anch'io devo dire, pensavano che il Milan potesse insomma rischiare di prendere un'imbarcata oltre affer contro il Manchester, invece devo dire che la squadra di Stefano Pioli ha giocato una partita coraggiosa, adesso al netto delle polemiche arbitrali che lasciano il tempo che trovano, non poteva vincere, poteva perdere, ma comunque un 1-1 ad Old Trafford è un risultato assolutamente rispettabile. Quindi davvero complimenti, complimenti ai rossoneri perché hanno fatto veramente una bella partita. Ora bisognerà vedere giovedì prossimo perché è chiaro che il Manchester aveva delle assenze come le aveva il Milan, ma mi sa che gli assenti del Manchester United sono insomma giocatori di miglior caratura internazionale di quelli del Milan. Pensate a Pogba, pensiamo a Rashford, insomma pensiamo a Cavani, adesso bisognerà vedere se il Manchester Solskjaer, che ho visto comunque molto passivo come allenatore, devo dire in panchina, recupererà questi giocatori, però insomma cominciamo a dire con 1-1 in trasferta da che mondo è mondo per quanto riguarda l'Europa è un buon risultato per chi poi si trova ad avere il retour match in casa. Per quanto riguarda l'Inter si è operato Vidal, la menisectomia in altroscopia oggi insomma è un gioco da ragazzi, per i giocatori aveva questo fastidio meniscale, lo so che non lo amate molto Vidal, come non amate Kolarov, come non amavate Andanovic, non amate Gagliardini, lo so che avete un po' tutta una serie di giocatori che detestate, però ragazzi il momento dell'Inter è talmente bello, è talmente positivo per cui anche a questi tagliatori di teste, sono il primo a dire che la storia di Vidal e quella di Kolarov non sono andate bene, va bene, però insomma cerchiamo di stare tutti uniti, in fondo se davvero si vincerà questo scudetto sarà lo scudetto di tutti, lo dico anche a me stesso che ogni tanto critico su Ning, ma ne ho ben donne insomma, perché in ogni caso devi presentarti come proprietà anche tutto sommato un pochino rispettosa dei tuoi tifosi, sarà lo scudetto di Marotta, di Conte, della squadra, di quelli che sono andati meglio ma anche di quelli che sono andati male, quindi so benissimo che Vidal e Kolarov, insomma non ci hanno convinto quest'anno, però posso al popolo interista fare una richiesta a tutti voi, piantatela di massacrare sempre questo, quell'altro e quell'altro ancora, in fondo questo gruppo tutto sommato sta raggiungendo dei risultati importanti, poi c'è chi è più importante, chi è meno, chi doveva sicuramente dare di più, pensate anche a Vessino e Sensi che sono praticamente infortunati da tutta la stagione, però quando le cose vanno così bene, insomma cerchiamo un pochino, no? Disotteriamo l'ascia di guerra e vogliamo bene a tutta l'Inter in questo momento, una raccomandazione che faccio, anche perché ragazzi siamo quasi alla vigilia di Torino Inter e perché ho titolato questo video editoriale otto volante? Perché voi vi ricorderete che in Inter Torino 4 a 2 nel girone d'andato, una partita incredibile ed io l'avevo vista a San Siro Torino in vantaggio in chiusura di primo tempo con Zazza, noi molto male, raddoppio addirittura con l'ex Ansaldi del Torino su calcio di rigore, praticamente a metà del secondo tempo quasi noi eravamo sotto 2 a 0. Bene, da lì in tre minuti, Sanchez che aveva perso una palla terribile consentendo al Torino di passare in vantaggio, si riscatta, insomma segna, accorcia le distanze, poi fa l'assista Lukaku, poi il rigore di Lukaku, poi il gol di Lautaro, insomma per farla breve è una grande rimonta, andiamo a vincere 4 a 2 sul Toro. Da lì parte l'otto volante dell'andata, interrotto poi soltanto il 6 gennaio, come sappiamo bene, a Genova, però partono 8 vittorie consecutive che sono poi quelle che ci hanno consentito in quel momento lì di stare sempre belli incollati al Milan e di essere quindi protagonisti anche nel girone d'andata. Ebbene, adesso proprio a Torino, domenica alle 15, siccome abbiamo vinto tutte le partite, del girone di ritorno, da quando è iniziato il girone di ritorno e sono 7, potremmo raggiungere proprio col Torino, questa volta a Torino è passato un girone, di nuovo l'ottava vittoria consecutiva, quindi siamo qui per eguagliare noi stessi. Ragazzi, finora 7 partite, 21 punti nel girone di ritorno, se diventano 8 vincendo a Torino 24, se abbiamo eguagliato l'otto volante dell'andata, poi c'è anche il Sassuolo prima della sosta e non è detto che non si possa addirittura arrivare a migliorare questo primato comunque. Abbiamo battuto praticamente tutte le squadre, anche quelle da cui abbiamo perso, ce ne mancano 3, la Sampdoria che affronteremo a San Siro, l'Udinese che affronteremo a San Siro e la Roma che affronteremo a San Siro. Ecco, se dovessimo battere poi più avanti anche queste 3, avremmo battuto tutte le 19 del campionato almeno una volta e sarebbe insomma la testimonianza di una grandissima stagione di vertice. Ma adesso concentriamoci su Torino, però ve l'avevo promesso perché insomma sono tre giorni che era chiuso nella sua bottega il mio amico, il mio editorialista di zona, Fiorenzo, il malefico calzolaio della Juventus. Sono andato, perché me l'avete chiesto voi cari followers, a capire come sta. Boccheggia, è ancora vivo, è ancora fiducioso sulla sua Juve. Sentitelo. E a grande richiesta i miei followers volevano informazioni sul calzolaio della Juventus. Calzolaio della Juventus, come stai? Fatti vedere. Bene, bene, sei venuto a... Vieni fuori, vieni fuori. Sei venuto a... Porto una cintura, calzolaio della Juventus, sai che io ti voglio bene. E mi stai dando le condoglianze, eh. Ma cos'è successo, calzolaio della Juventus? Eh, è successo, la Juve non gira più bene come una volta, basta. Ma perché? Ma cosa? Eh, c'è qualcosa che non va. L'Ajax, il Leone, il Porto, ma cosa? Non mi piace più come gioca. Ho capito, ma ti sei ripreso. Sì, sì, mi sono ripreso, è tre giorni, figurati. Eh, meno male che ti sei ripreso. Mi sono ripreso, sì, però quella sera lì stavo proprio male, 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 male. Senti, cosa facciamo adesso con CR7? Eh, adesso dovete... No, con CR7 qualcuno dice lo teniamo. No, no, lo teniamo, lo teniamo, è l'unico. Lo si tiene? Sì, sì, sì. Anche Pirlo spero, mica mi butti. Sì, sì, ma credi sì, ma va, ormai teniamo tutti, eh. Eh, adesso mi vuoi avvisare di che cosa? Eh, adesso tutti gli interessi devono stare attenti, perché adesso puntiamoci allo scudetto. Ma mi stai minacciando? No, no, questo mai. Cioè, è un amico, figurati. No, però tu mi stai avvisando che adesso la Juve... Sì, sì, adesso si scatena. Ah, si scatenano in campionato. Sì, sì, sì. Mi devono a prendere, dici? Sì, 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 sì. Sono sicuro, 100%. Cioè, che vince lo scudetto ancora la Juve? Sì, vedrai. No, ma mi fai perdere lo scudetto all'Inter. No, no, a me mi dispiace, mi dispiace per l'Inter, eh. Perché è anche un po' in simpatia, però la mia Juve è sempre la mia Juve, eh. Allora, cari followers, avete sentito? Rilancia, non lascia ma raddoppia il malefico calzolaio della Juventus. Mi sta avvisando che la Juve andrà a vincere il campionato a togliere lo scudetto all'Inter, giusto? Certo, certo. Va bene, calzolaio, ci vedremo naturalmente alla fine del campionato. Sì, va bene, ma ci vediamo ancora, eh. Vabbè, ci mancherebbe altro, vorrei vedere. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. E quindi, ragazzi, l'avete sentito il malefico calzolaio della Juventus? Altro che boccheggia, altro che ancora vivo. Rilancia la sfida, l'editorialista di zona, Fiorenzo, ci lancia una sfida e ci dice Gianluca, attenzione, cari interisti, perché io sono Fiorenzo, il calzolaio della Juventus, e adesso la Juve si scatena in campionato. Le vince tutte e quindi vi porta via il campionato. Caro Fiorenzo, mi hai lanciato questa sfida? Insomma, dobbiamo cercare naturalmente invece di tenere a bada la Juventus e quindi viva l'Inter, me l'avevate chiesto, Fiorenzo, il calzolaio della Juventus. Non potevo non riproporvelo. Ciao e viva l'Inter.